Il chirurgo deve sapere in anticipo se il paziente soffre di qualche malattia oppure prende regolarmente i farmaci. Solo in base a queste informazioni il dottore può con sicurezza effettuare l'intervento di implantologia oppure sconsigliarlo. Se il paziente ha problemi di salute, assume farmaci che potrebbero causare problemi durante l'intervento dovrà avere il consenso del suo medico curante.